Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e la concepì per opera dello Spirito Santo. Aveo Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. Aveo Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Verbo di Dio si è fatto uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. Aveo Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Infonti in noi la tua grazia, o Signore, per l'annuncio dell'Angelo. Abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio. Per la sua passione morte, concedi a noi di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Continuiamo la nostra preghiera per la pace. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutta l'umanità, ascolta il grido unanime dei tuoi figli, fai cessare le guerre e concedi ai nostri giorni la pace. Oggi preghiamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero del dolore meditiamo l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi. La passione di Gesù non è finita. Egli continua a soffrire nell'umanità sofferente, per il peccato, per l'ingiustizia, ma che anela alla vera libertà. Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci dal mare. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato alla colonna. O Padre, Tu hai tanto amato il mondo, da dare per noi il Tuo unico Figlio. Donaci di comprendere la gravità del nostro peccato e le esigenze dell'amore. O Gesù, vittima innocente per i nostri peccati, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore, Gesù è coronato di spine. Dio onnipotente, Cristo tuo Figlio, ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio. Donaci la forza di prendere la nostra croce ogni giorno, e di seguire con fedeltà il nostro Redentore. Cuore di Gesù, disprezzato e umiliato, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il Tuo nome, venca il Tuo regno, si è fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore, Gesù viene caricato della croce e si avvia verso il Calvario. Signore Gesù, Tu hai accettato con riconoscenza l'aiuto di Simone il Cireneo nel portare la croce del Tuo supplizio. Concedi a noi la grazia di portare con gioia la croce del Tuo servizio e di confortare con la nostra carità le sofferenze dei fratelli. Padre nostro, che sei nel Cielo, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come il Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore, Gesù muore in croce. O Dio, Tu non vuoi la morte, ma la conversione e la vita dei peccatori. Ascolta la nostra preghiera e per la passione morte del Tuo Figlio, Gesù, concedi a noi la Tua pace. O Gesù, nostra vita e risurrezione, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le amie, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Preghiamo per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Pietro. Pietro, apostolo glorioso, hai accolto la pace del risorto, hai confessato il tuo amore di predilezione e hai ricevuto la missione di pascere il gregge del buon pastore. Hai annunziato la sua Pasqua redentrice e fortificato dallo Spirito, hai consacrato la vita fino al martirio. Pietro, apostolo fedele, sostieni il nostro impegno, essere luce e sale della terra, testimoni visibili e credibili di Cristo Gesù. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza, speranza nostra salve, a te ricorriamo, noi esuri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del creatore, prega per noi, Madre del salvatore, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi, tempio dello Spirito Santo, prega per noi, tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, torre d'avorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, torre d'orca del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, conforto dei migranti, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei veri cristiani, prega per noi, regina delle vergi, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del santo rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina del cielo e della terra, regina del cielo e 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 reg Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti le idee delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, ci ha meritato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie.